La cultura d'impresa al centro di ogni azione, innovazione, ricerca, digitalizzazione e priorità sulle quali investire. È chiaro il percorso tracciato dal nuovo presidente degli industriali di Salerno, Antonio Ferraioli, alla guida del gruppo La Doria, azienda leader nel settore agroalimentare, la prima in provincia di Salerno ad essere stata quotata in borsa, con sede principale ad Angri, guiderà l'associazione degli industriali di Salerno fino al 2025, dopo l'elezione avvenuta nell'assemblea di oggi. All'assemblea sono intervenuti il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in videocollegamento, mentre in presenza c'erano il presidente di Confindustria Campania, Vito Grassi, ed il consiglio di presidenza, tra i quali erano presenti anche il past president Enzo Boccia, Mauro Maccauro, il presidente di Caserta Traettino, oltre a tutta la squadra dei vicepresidenti. La relazione di Ferraioli è stata preceduta dal saluto del presidente oscente Andrea Prete, che nel suo intervento ha ricordato l'impegno e le sinergie create dall'associazione per affrontare la forte crisi pandemica. Credo che bisogna guardare un po' oltre il momento attuale, un momento estremamente difficile, che ci auguriamo di superare al più presto, ma superato questo momento bisogna pensare allo sviluppo del territorio, e lo sviluppo del territorio parte innanzitutto da una consapevolezza della cultura di impresa, quindi avere come impresa tutti i temi che riguardano la governance, la sostenibilità, il tema della digitalizzazione che si è mostrato estremamente importante anche durante questa pandemia e che sicuramente cambierà anche le nostre attitudini e il modo di lavorare. Penso che bisognerà lavorare su questi temi e poi dialogare con le istituzioni, cercando di portare avanti gli interessi del territorio, nella consapevolezza che noi siamo uno dei motori di sviluppo anche dell'occupazione e quindi sicuramente avremo il dovuto ascolto per quanto riguarda le nostre istanze. Ecco, Presidente, Confindustria come corpo intermedio è sempre stato anche propulsore di sollecitazioni rivolte al Governo nazionale e locale. Salerno come provincia aspetta, e gli industriali in modo particolare da tempo, l'attivazione dell'aeroporto, ma nello stesso tempo si guarda con attenzione al porto. Ecco, da questo punto di vista quali sono le sollecitazioni che si sente già di poter avanzare il nuovo Presidente di Confindustria? Sì, certamente il tema delle infrastrutture è fondamentale per lo sviluppo del territorio, al servizio delle imprese. Il porto di Salerno è una realtà importante che ha consentito anche lo sviluppo di tante imprese. Penso al settore agroalimentare che ha avuto la possibilità, sia per il suo export che per il suo import, di avere una struttura vicina al territorio e che quindi ha favorito il suo sviluppo. Ma in generale tutto il tema delle infrastrutture sarà importante, anche perché rientrerà anche nel Next Generation, che sicuramente dovrà dedicare al tema non solo delle infrastrutture, ma della digitalizzazione, della crescita sostenibile, molte delle sue risorse. Senza voler entrare nella politica, secondo lei Confindustria deve sostenere una battaglia per strappare maggiori fondi di questo Recovery Fund per il Sud? Ma io credo che Confindustria è una istituzione politica, quindi deve dialogare con le istituzioni, chi al momento ricopre determinato ruolo è il nostro interlocutore, quindi noi cercheremo di confrontarci, soprattutto cercando di portare delle idee, idee che sono sicuramente di interesse e di vantaggio per il territorio, indirettamente anche per le imprese. Grazie a tutti.